E' piano piano che il sole tramonta, io mi ritrovo all'ultima svolta di quella giornata quasi finita, ma non pensavo che fosse la vita. E' piano piano guido sereno, vedo le luci, blocco il mio freno. Un camion davanti rimasto bloccato, lo passo a sinistra, l'ho quasi incentrato. E mi ritrovo sdraiato seduto, gabbina per terra e sono svenuto. Lo schianto era grande, l'urto era forte, su quell'autostrada ho sfiorato la morte. Mi prendo la mente, le ossa fanno male, dentro quel letto dell'ospedale. Un medico dice, è stato un miracolo usci fuori da quell'abitacolo. E non so chi fosse, e non so chi era, quel dannato camion di quella sera. Mi pensieri volano in alto, a chi come me non ha osato tanto. Le ossa fanno male, ma qualcosa mi duole, rimane ferito il mio piccolo cuore. E piano piano, che passa il tempo, penso e ripenso con grande sfomento. Sempre a quel giorno, il 28 giugno, alla mia vita chiusa in un pugno. E il cuore si spezza, torna quel giorno, un giorno qualunque, col sole al tramotto. Quanti pensieri, pensieri affranti, il 28 giugno, ne verranno tanti. La mente ritorna a quel giorno fatale, dentro quel letto dell'ospedale. Ricordo quel medico dire, è stato un miracolo usci fuori da quell'abitacolo. E il mio pensiero, vola col vento, a tutti quei fratelli, caduti nel tempo.